Ciao a tutti! Spero vi sia piaciuto il video precedente di Rocca Patanua. Il video di oggi è un po' diverso, lo voglio dedicare ai sogni. Perché ognuno ha dei sogni che vorrebbe realizzare. Per esempio, uno dei miei sogni è ammirare le grandi pareti che hanno scritto la storia dell'alpinismo. E lo so che per realizzarli il lavoro da fare è davvero duro, però bisogna provarci. Perché comunque, lo sappiamo, non è che basta un semplice schiocco di dita per ritrovarsi al cospetto del Cervinia. Wow! Vabbè, andiamo! Partiti da Cervinia, naturalmente. Oggi andiamo al back del Pio Merlo. Partiti da Cervinia, naturalmente. C'è un po' di vento, come si può vedere. e quindi credo che adesso scenderemo perché avevamo in mente di andare alla moto occidentale che è di fronte a me, però fa davvero tanto freddo. È il bellissimo Cervino. L'escursione di oggi è finita e adesso andiamo al campo base del Pio Merlo. E questo è livello. E ora lo so. E questa è sempre più l'ookpietta. E poi,' Grazie.